Compie 86 anni Gino Foti, gigante della politica nel nostro novecento. Compie oggi 86 anni l'onorevole Gino Foti, è stato e rimane la colonna portante della infrastrutturazione del territorio di questa provincia. Ancora oggi, nonostante l'età, nonostante la decisione soltanto sua di lasciare la politica attiva, Gino Foti rimane il padre nobile della politica seracusana. E' stato e rimane un gigante e ancora oggi i suoi pareri, le sue indicazioni sono linee guida per i suoi amici e alleati. Gino Foti è stato e rimane una guida, una autorevole e ascoltata guida. Oggi il grande Gino soffre come soffre tutta la nostra provincia nelle mani di nani e ballerine, come disse il socialista Formica all'Assemblea Nazionale del suo partito. Il grande Gino è un gigante nella politica del novecento seracusano, assieme a pochi pochissimi altri, Santinicita che gli è stato sempre molto vicino, Concetto Lobello, Salvatore Corallo, Carlo Giuliano. La sua grandezza non è soltanto la caratteristica della sua linea politica apprezzata e seguita. E anche, anzi soprattutto, l'effetto delle sue realizzazioni nell'interesse del nostro territorio e della popolazione intera. Non sarà mai ripetuto abbastanza che a lui si devono opere infrastrutturali come i depuratori di Siracusa e di Priolo. Oggi nel mare di Priolo d'estate tanta gente va a fare il bagno, anche non priolesi. E poi ancora all'iniziativa, nonché l'inizio della progettazione e della realizzazione del porto commerciale di Augusta, la infrastrutturazione dell'entroterra, a cominciare dal cosiddetto asse attrezzato Siracusa-Megara, che è poi il primo e fondamentale tratto dell'autostrada Siracusa-Catania e della relativa viabilità secondaria di penetrazione nel territorio, che gravita sul porto e sull'intero polo industriale. Ma già prima della sua attività parlamentare, è stato anche per diversi anni sottosegretario al lavoro, prima e poi al tesoro, quando era ancora presidente del Consorzio ASI, Gino Foti aveva avviato la infrastrutturazione di questa provincia. Era infatti riuscita a stabilire un canale preferenziale con la Cassa del Mezzogiorno e da questa ottenne rilevanti finanziamenti di opere pubbliche. Da sottosegretario al tesoro gestì un ruolo di primo piano insieme con il socialista Nicola Capria, allora ministro, nello stesso governo. Insieme ai due esponenti politici, Foti, Demochristiano e Capria, socialista, presentarono in Parlamento il disegno di legge per la ricostruzione dopo il terremoto del dicembre 90. Ne ottennero l'approvazione e con i fondi stanziati da quella legge, rifinanziata ogni anno grazie a un meccanismo virtuoso introdotto nel testo, fu realizzata in gran parte, se non tutta, la ricostruzione post-sisma. Altre preziose opere pubbliche sono state realizzate sul nostro territorio grazie all'attività politica di Gino Foti. Non è qui il caso di farne una pedissequa elencazione. nella sua figura di gigante si staglia comunque nel panorama politico del Novecento Siracusano, sempre con quel sorriso, con quella sottile ironia e autoironia che lo caratterizza. Per ora è soltanto il momento di dire auguri Gino e grazie.